L'area produttiva e artigianale di Penne presto diventerà funzionale. Infatti, dopo 13 anni di attesa, nei giorni scorsi il Comune di Penne, guidato dal Sindaco Mario Semproni, ha raggiunto e sottoscritto l'accordo, espropriando i terreni con i soggetti attuatori per la costruzione di una nuova arteria stradale, così da poter collegare i capannoni realizzati da tempo e mai aperti alla strada statale 81. Adesso la palla passa ai soggetti attuatori a cui carico c'è il costo dei lavori che riguardano la nuova arteria, il verde, i parcheggi e i marciapiedi. La strada dovrà essere costruita entro 90 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione. Considero questo traguardo la conclusione di un calvario per gli imprenditori che hanno acquistato i lotti e realizzato i capannoni artigianali per le loro attività. Ha esordito l'assessore alle attività produttive Gilberto Petrucci. Mi sono attivato immediatamente per risolvere questa criticità. Tre capannoni potranno finalmente essere operativi, altri lotti potranno invece ospitare altre nuove strutture artigianali. La realizzazione di questa nuova infrastruttura vuole essere anche una conseguenza di quello che è stato inserito nel bilancio di previsione 2019, dove l'Aggiunta Comunale Pennese ha deliberato agevolazioni fiscali per le nuove imprese che vorranno insediarsi a Penne grazie all'esenzione totale della tassa comunale sulla raccolta dei rifiuti nei primi tre anni di attività. Ma non sarà l'unica novità per quanto riguarda la zona industriale di Penne, perché nell'ottobre 2016 è stato raggiunto e installato anche la banda ultralarga per favorire l'innovazione e l'ammodernamento dei macchinari industriali. La zona del piano di insediamento produttivo di Penne inoltre è stata censita dai tecnici dell'Arab e inserita nel portale per attrarre investimenti.